e allora abbiamo avuto la fortuna di incrociare gli appuntamenti e gli impegni con un amico che è in procinto di pubblicare un disco e quando un amico fa una cosa noi cerchiamo sempre di pubblicizzarla il più possibile per contattuto a voi se lo merita. Lascio questo microfono e questo pubblico splendido a Stefano Lumine! Dimentichiamoci questa città, bambina abbiamoci, amogia, dimentichiamoci il freddo che fa e invece stiamoci se ti voglio amare da morire, voglio farti impazzire, non ti devi preoccupare e non pare, so io come fare, so io come fare e fare... su con le mani dai! su! 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 Sogno come fare, sogno come fare, eh, eh, e poi vedrai che domattina avrai qualcosa da ricordare. Sì, 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 sì. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti